presentati ciao mi chiamo Ilegna e ho 5 anni e vado all'asilo ho 2 anni 3 anni e vado all'asilo cosa vuoi fare da grande? la padrucchiera e io la dottoressa se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? cantare e io ballare mi chiamo Lola e sono spagnola la mia mammina è parigina il mio papino è il pescatore della Cina 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 Coccolè Emilia Zaccolomè fai un appello al pubblico per farti votare votateci